Ciao, il mio nome è Damiano, uno dei driver di DRIVERYROME. Ho fatto questo lavoro per quasi 7 anni e lo amo. Sono nato e nato in Roma. Ho sempre avuto una passione reale per la storia del mio paese e ho pensato anni fa che ero molto fortunato di vivere in una città di 3.000 anni. Quindi ho deciso di migliorare il mio cittadino per i anni e ora sono pronti per darvi il miglior tour della mia città. La mia città è Roma e è ovviamente la mia tour favorita perché sono abbastanza orgoglioso. L'ultimo, ma non l'ultimo, ho conosciuto i migliori restauranti quindi se volete provate con me la nostra deliziosa città. Quindi ragazzi, non posso aspettare per darvi il miglior tour per rendere la tua esperienza veramente unica e non forgettable. Ci vediamo in Italia, ciao!